I 47 lavoratori interessati dalla vicenda della mancata assunzione al Comune di Comiso hanno deciso di occupare l'aula consigliare. Il sindaco Filippo Spataro intanto preannuncia il ricorso dell'amministrazione comunale contro la decisione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali che non ha approvato la delibera di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2014-2015-2016 del Comune di Comiso, con la conseguenza che l'ente non può riassorbire le 47 unità lavorative che hanno effettuato le procedure di stabilizzazione e si trovano in attesa di essere assunti a tempo indeterminato. Il Comune aveva sostenuto la tesi che queste persone effettivamente avevano concluso positivamente il concorso di prestabilizzazione e solo per motivi tecnici non si era potuto procedere alla loro assunzione definitiva. Questa tesi sostenuta dal Comune di Comiso era parso fosse stata accolta con un certo interesse dei commissari ministeriali e pertanto si nutriva a concreta speranza di poter finalmente vedere rimessi nel ruolo del Comune a tempo indeterminato queste persone. Ora invece la Commissione ministeriale argomenta che qualora il Comune procedesse all'assunzione di questi lavoratori si tratterebbe di un'uova assunzione, soggetta a tutti i limiti di legge perché il loro rapporto contrattuale con l'ente sarebbe cessato il 31 dicembre 2012. Una decisione che non ci convince perché questa categoria di dipendenti ha completato positivamente l'iter della stabilizzazione. Ciascun lavoratore si trova utilmente inserito in graduatorio e va considerato a tutti gli effetti stabilizzato. Sono queste le parole del primo cittadino.